Palazzo Reale si rifà il look. Il 30 maggio prossimo, nel corso dell'European Design Festival, sarà infatti presentato il nuovo logo dello storico palazzo, scelto tra 218 domande di partecipazione. A vincere il concorso è indetto dal sito museale Francesca Pavese, con un team composto da Vito della Speranza, Francesca Cuomo e Ciro Esposito. Si tratta della prima volta in assoluto che il Palazzo Reale di Napoli organizza e bandisce un concorso per la creazione del proprio brand, e va nella direzione di voler riportare la reggia alla sua dimensione internazionale. Progetto di ricostruzione dell'identità del Palazzo Reale di Napoli, afferma il direttore Mario Epifani, oltre a dare la maggiore evidenza possibile ai tesori che ospita, favorisce ogni possibile connessione con le altre residenze reali, italiane ed europee, che sono oggi accomunate ad essa dall'esigenza di adeguare gli spazi di quelle che un tempo erano le residenze alle necessità di un museo moderno.